Il diritto alla salute è, neanche a dirlo, una priorità per ogni comunità. Sancita dalla Costituzione, la norma va reso operativa dai decisori con strategie e scelte concrete calate nei territori. Ma la salubrità di un territorio in senso lato la si vede anche dalla sua capacità di consentire a chi lo abita, se non di prosperare, una vita dignitosa dal punto di vista economico. Salute e sviluppo economico non sono in antitesi, nemmeno salute e sviluppo industriale. Ciò premesso, in Molise c'è una realtà, quella della Piana di Venafro, in cui dati delle centraline di monitoraggio dell'aria e soprattutto risultanze dello studio epidemiologico del CNR alla mano, l'inquinamento e il rischio di compromissione del diritto alla salute sono un problema. Ad evidenziarlo, a rischio di risultare ridondanti, anche il report della Procura che ha registrato la presenza di cadmio ed altri metalli pesanti in alcuni terreni. Ma quali sono le cause? È la vera domanda. Senza una risposta, impossibile adottare misure efficaci a contrasto. Intanto, alla ricerca di prime risposte, il tavolo tecnico tra ARPA, sindaci e associazioni del territorio sulla tematica ambientale, invocato dal sindaco di Pozzilli Stefania Passarelli, rimane sulla carta. A proposito dei sindaci dell'area, sulla delicatissima questione, il sindaco di Montaquila, Marciano Ricci, annuncia battaglia. La preoccupazione della mia gente prima adesso è questa. Adesso comincia una vera guerra e l'inquinamento nella piana di Venafro. Io non ce la faccio più sentire persone. Adesso la piana di Venafro, l'inquinamento, faccio a modo mio. Mi sto organizzando a modo mio. Basta. La piana di Venafro, che viene su Montaquila, abbiamo un sacco di malati. Questa è una cosa che adesso la devono smettere. Che cosa hai intenzione di fare, sindaco? Tutto. Tutto quello che posso. Purché si risolve i problemi, dovranno avere il coraggio di dire inguina e non inguina. Se inguina deve chiudere. La gente per mangiare non può morire.